La 31esima edizione della nostra fiera gastronomica in Nerui Monza e abbiamo con noi il nostro caro amico Dario Allevi, sindaco di Monza. Grazie Dario per essere qui come ogni anno con noi a sostenerci. Grazie. Grazie a te Mara e a tutte le socie dell'Innerui per questa straordinaria manifestazione che c'è in città da 31 anni. Io tra l'altro l'ho vista nascere perché mamma fino a qualche anno fa la mia mamma era socia dell'Innerui e mi ricordo quanto lavorava da settimane e settimane prima prima di quelle fiere gastronomiche di quegli anni per cui per me è doppiamente un piacere essere qui perché si fa del bene, si fa del bene quest'anno a una straordinaria associazione come la Silvia Tremolata e per cui l'Innerui dimostra anche in questa occasione di quanto bene faccia tutta la nostra comunità sempre perché è composta da donne veramente meravigliose. Grazie.